Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Prima di adentrarci nell'argomento odierno, voglio ringraziarvi davvero dal profondo del mio cuore per aver raggiunto il risultato dei 100 iscritti. Piano piano stanno arrivando sostenitori, io vi ringrazio perché so che molti di voi hanno un po' pubblicizzato nei vari canali Discord quello che sto facendo, significa che lo apprezzate e quindi è anche un grande stimolo per me a continuare a produrre contenuti che spero possano essere sempre utili e interessanti e soprattutto non noiosi. Altra piccola parentesi a proposito del boss della torre di oggi, l'ultimo in realtà, ovvero il ragno glaciale, dal mio modesto parere non dico che sia il più semplice da battere ma insieme al drago quello un pochettino più semplice quali sono le sue caratteristiche? Gli fate meno danno se non ha brucia HP e si rianima con un 50% abbondante più o meno di vita se non ha brucia HP. Morale, portatevi qualcuno che brucia gli HP. Io la prima run con un tempo ragionevole l'ho fatta con Galax Supremo, che è un campione che ho avuto modo di farvi vedere poco tempo fa, che va alla grande, però non è l'unica strategia che si può utilizzare visto che quel particolare boss, ma come tutti in realtà, viene inflitto dal blocco rianimazione e se in genere non è un problema perché i boss non si rianimano, in questo caso va benone perché questo si rianima e non potrà rianimarsi se c'è un blocco rianimazione. Quindi non è soltanto la passiva di Lydia che funziona ma qualsiasi campione in grado di mettere blocco rianimazione e sì, ancora una volta Armigero diventa padrone della situazione sta diventando imbarazzante questa cosa, ormai che Armigero si può mettere dappertutto però sì, anche in questo caso si può mettere visto che lui infliggerà il blocco a rianimazione con la seconda skill Chiusa parentesi Allora, vi ho portato recentemente campioni leggendari sebbene avessi detto in origine che non volevo farlo o non più di tanto perché ritengo che ci sia poco da imparare o avete quel campione oppure no ho fatto un'eccezione per i Legaius e la farò per i campioni delle fusioni se intendo svilupparli perché li ritengo campioni un po' più facili da ottenere se partecipate alla fusione e la completate avrete quel campione ho fatto il video su Maury Brocca perché la build di Maury Brocca va benissimo per qualsiasi altro campione basato sulla provocazione come per esempio Schiacciasassi, come per esempio Cupa Incantatrice quindi valeva la pena di farlo però ci tenevo insomma a soddisfare le richieste del mio clan in particolare di Max che ringrazio tantissimo perché mi ha aiutato davvero molto nelle prime fasi di questo canale a montare i video, a sistemarli, a renderli insomma fruibili per tutti quanti e quindi parliamo di Netril, un campione che proprio lui mi ha chiesto allora Netril, campione strepitoso, il campione che mi ha permesso di risolvere le roccaforti venti più rognose in particolare il cavaliere pirico e in particolare il ragno per tutta una serie di caratteristiche che ha andiamo subito a vedere di che cosa è capace quindi con la prima skill attacca tre volte e questo già di per sé lo rende ottimo per il cavaliere pirico in più ogni colpo che fa quindi contrariamente a quello che si potrebbe capire da questa skill ogni suo colpo avrà una probabilità di mettere un veleno del 5% questo lo rende un'ottima alternativa magari all'inizio per il boss del clan visto che è un potente avvelenatore con la seconda skill avrà un 75% di stordire tutti quanti oppure se non gli stordisce gli metterà un riduce di velocità quindi o gli stordisce e quindi gli farà perdere il turno oppure semplicemente gli rallenta che va benone è chiaro che sul boss non si può mettere lo stordimento quindi di colpo si prenderà il riduce di velocità con la terza invece è molto semplice attacca tutti i nemici e riduce del 75% il contatore di turno stupendo quindi con questa tiene di fatto praticamente a zero il contatore di tutti i nostri avversari abilità estremamente potente contro il ragno ma anche ottima contro il cavaliere pirico andiamo a vedere un attimo come l'ho vestito quindi è un campione che mette debuff o comunque fa cose che richiedono precisione con tutte e tre le sue skill quindi servirà precisione se è veloce riuscirà a fare queste skill con una ciclicità superiore agli avversari quindi saranno sempre o storditi o ridotti in termini di contatore di turno non dobbiamo dimenticarci che è un campione che andremo a utilizzare prevalentemente nelle roccaforti quindi avremo bisogno di difesa e la mia è molto vicina ai 2000 punti che è il minimo sindacale insomma dal 1800 a 2000 va già bene per le roccaforti di livello 20 36.000 HP è una vita per un campione tipo attacco va bene il tasso decisivo potrebbe non essere importante perché lui è già ottimo se gli date tutta la precisione che gli serve però è anche un campione che fa danno quindi perché no gli ha dato 98% di tasso che va bene e il danno decisivo a 160% va bene tenendo conto che questo non è un guanto danno decisivo ma è un guanto tasso quindi direi che è un ottimo risultato andiamo a vedere un attimo le maestrie quindi percorso più semplice in assoluto per raggiungere stermine giganti che gli permette di fare tanto danno con la sua skill primaria visto che è un multi-hitter passando anche per appunto tasso extra danno extra e così via mentre il percorso assistenza per avere naturalmente la precisione in più questa molto molto buona nel mio caso particolare visto che ho utilizzato sia un set velocità che un set precisione perché aumenterà un pochino le performance di questi set e ultime ma non per importanza in particolare se intendete utilizzarlo del boss del clan queste due che hanno la probabilità maggiorata del 5% di metterli veleni con la sua prima skill ed eventualmente di estendere la durata di questi veleni di un turno con un 30% di durabilità e questo ovviamente riguarda anche il riduce velocità che eventualmente verrà esteso di un turno extra quindi benissimo queste due maestrie ma io non avrei altro da aggiungere sul modo in cui va costruito un buon netril ci spostiamo dal cavaliere pirico e vediamo che cosa è in grado di fare eccoci dal cavaliere quindi che dire in grosso modo è il team che sto utilizzando in questo momento sto tanto sperando di trovare un benedetto cavaliere cervino per sostituire Zargala che va bene il suo dovere per carità riduce la difesa però non è non è assolutamente un campione da cavaliere pirico ma non importa nedril ha il pregio di condensare tutto quello che serve per fare bene contro il cavaliere perché le ondate sono molto forti ma non è un problema perché lui non gli fa perdere neanche non gli fa prendere neanche un turno e quindi io riesco ad arrivare tranquillamente dal boss con le mie due cuore glaciale perfettamente vive nonostante abbiano una difesa ad una vita estremamente esigue ha appunto multi hit sul primo attacco che mi permette di togliere lo scudo con estrema facilità ha la possibilità anche lui di ridurre il contatore quindi tutto il suo kit è ideale per il cavaliere davvero e questo lo rende l'MVP di fatto o meglio uno dei campioni più indicati proprio per svolgere questa fase tale da renderlo a tutti gli effetti una sorta di specialista assoluto insomma ecco però è chiaro che lui non può fare tutto da solo ci servono altri campioni ho fatto un video dedicato insomma sugli specialisti del cavaliere vi invito a recuperarlo spero che sia stato esaustivo insomma che possa contenere tutti i contenuti un po' strano detto così insomma che abbia tutti i contenuti che vi servono per capire cosa bisogna fare per fare bene contro questa particolare fase ad ogni modo nel momento in cui le due quadraciale incastrano le loro skill si riesce i due cerca cuori insomma e anche lo stesso netri contribuisce a mantenere il contatore basso vedrete che il boss non prenderà più un turno fino alla fine insomma ecco quindi al massimo ne prende uno speriamo di no si uno lo prende però sono anche contento che lo abbia preso per farvi vedere che comunque le statistiche che ho dato a netri bastano quindi mentre le due quadraciale hanno preso un bel colpo e anche la stessa zargala ha preso un bel colpo non sono morte ma poco ci mancava invece netri l'è rimasto vivo alla grande insomma tenete conto che una scudata ve la prenderete sempre può succedere che i vostri campioni non arrivino dal boss con le statistiche con le loro skill pronte per essere utilizzate nell'ordine giusto quindi che arrivino con tutte le loro skill esaurite pronti per utilizzare soltanto la prima che in genere è quella che ha multi hit e quindi pronti per tirare prima giù completamente lo scudo e poi iniziare a fare questo se avete problemi in tal senso utilizzate se l'avete naturalmente fascino se non sapete di che cosa sto parlando recuperate il video su di lei visto che ne ho fatto uno proprio dedicato ma comunque netri il suo dovere lo fa alla grande quindi le ondate di fatto non hanno praticamente mai preso turno se non una volta soltanto però è chiaro che se lo prendono una volta un paio di campioni non possono essere inoffensivi saranno sicuramente inoffensivi e anche il boss di fatto è rimasto inattivo per tutta la partita se non una volta che ha tirato giù il suo scudo e basta tra l'altro per prendere un pezzo stordimento peccato che sia difesa base quindi ciao ma ci spostiamo adesso dal ragno ed eccoci dal ragno quindi questo potrebbe essere forse il primo team con cui ho battuto il ragno 20 magari non il primo perché non avevo ancora armigero mannaggia me non l'avevo ancora sviluppato però netril lo avevo già avevo già preso razzin avevo trovato mostro con mia grande soddisfazione e probabilmente ah si avevo messo come leader farmacista giusto per avere un po' di cura un po' di velocità extra però comunque poi ho scoperto che mostro basta la grande lo stesso quindi e allora in questo caso netril fa tutto quello che serve perché mette stordimento ad area abbondante oppure mette il riduce velocità al boss per forza di cosa mette la riduce di velocità visto che il boss non può essere stordito però con la prima forse la prima skill è quella un po' più inutile visto che potrebbe riempire il boss di veleni e in questo particolare caso in cui io utilizzavo Razin e non è detto che Razin metta il riduce difesa in debolimento con il primo colpo mi è capitato qualche partita di perderla con questo particolare team perché nel momento in cui Razin si decideva a fare colpi decisivi e quindi mettere su i debuff ormai non c'era più posto perché Netril aveva già saturato completamente il boss di veleni o comunque di debuff sapete che anche il ragno così come il boss del clan non può avere più di 10 debuff attivi e quindi bastano un paio di turni fortunati in cui Netril riempie di veleni tutto quanto e basta la partita è finita perché senza riduce difesa e indebolimento o almeno senza riduce difesa non è possibile per quel graciale fare un danno sufficiente da abbattere proprio il boss quindi serve serve che venga messo subito ma questo è un problema di questo particolare team nel momento in cui Razin mette il suo riduce difesa e indebolimento subito avete vinto e anche grazie a Netril anche in un tempo abbastanza ragionevole proprio perché il suo kit è proprio perfetto è davvero perfetto per fare bene contro il ragno sono sicuro che se lo inserite nel vostro team vi risolverà in gran parte tutti i problemi soltanto lui bisogna soltanto avere la fortuna di averlo purtroppo grande sostituto ho avuto la possibilità di mostrarvela e di farvela vedere in azione appunto è Epsailar che dal mio umile punto di vista un Netril piccolino un Netril piccolino andiamo un attimo a vedere poi il Golem glaciale che penso sia l'ultima fase in cui può essere effettivamente determinante allora rispetto questo è lo stesso team che utilizzo io per fare il Golem rapidamente ho sostituito una delle due guardie reali con Netril perché vuole essere un po' una fusione tra il team che spacca tutto con grossi danni a quello che in qualche maniera controlla i nostri avversari nel mio specifico caso si scontra un pochino con con Krisk visto che lui già controlla di suo gli avversari provocandoli come avete visto è chiaro che questi devuff possono essere sommati ma perdo il beneficio della provocazione visto che i miei avversari essendo storditi perderanno il turno non attaccheranno e non attaccheranno Krisk e quindi non riceveranno un riduce difesa un riduce attacco ma comunque volendo fare un team sicuro al 150.000% Netril ci sta alla grande poi io ho Krisk ma mi rendo conto che non tutti potrebbero averlo e quindi già il fatto di avere un campione che tiene impegnati gli avversari con una grande facilità e siano essi i nemici delle ondate siano essi i due scagnazzi del boss perché quelli chiaramente possono essere provocati come avete visto va alla grande e vi permetterà di risolvere questa roccaforte con una certa sicurezza magari forse non con la velocità che vi danno due guardie reali ma inevitabile non sarà di certo una roccaforte da un minuto e mezzo due minuti beh neanche io in realtà neanche io visto che sono sui due minuti abbondantini non sarà ecco una roccaforte da due minuti o giù di lì sarà già una run da almeno tre minuti quasi quattro no forse più sui tre minuti comunque adesso vediamo come va a finire però ribadisco nelle roccaforti che vi interessa farmare perché vi danno set utili importanti potenti che utilizzerete tanto che utilizzerete in tanti campioni che avete bisogno di tanti pezzi come il drago per esempio allora vale la pena di sviluppare un team competitivo che sia in grado di farmare la roccaforte con rapidità e con sicurezza per quanto riguarda il golem finché non gli daranno dei set veramente utili rimaneggiare i set come hanno fatto non li rende particolarmente utili avrebbero dovuto proprio alcuni set avrebbero proprio dovuto cancellarli completamente e riscriverli da zero perché aumentare soltanto le probabilità che facciano quello che devono fare non li rendono più utili purtroppo l'unico set che è stato reso estremamente potente è il set di istruzione che però è comunque un set del drago quindi dovrete farmare sempre lui per ottenerlo il golem è ancora il roccaforte per i pezzi secondo me meno importante sarà comunque importantissimo far gavare il golem quando dovrete fare i tornei per le fusioni o comunque fare i tornei che vi interessano ma in questo caso io vi dico un team sicuro per quanto lento possa essere comunque poco meno di tre minuti non è assolutamente male sarà più che sufficiente per andare alla grande ecco quindi queste sono le roccaforti in cui io personalmente credo che netril sia un grande può essere tranquillamente utilizzato anche nella fortezza dello spirito per rallentare per quanto sia una roccaforte dove se già avete della semplice nuda e cruda forza brutta riuscite tranquillamente a superare visto che è aperta ne approfitto è un caso è assolutamente un caso perché in genere non 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 è che sto là a guardare insomma che siano aperte oppure non le roccaforti chi ci mettiamo poi qualcun altro buono a fare danni così dovrebbe andare bene insomma quindi roccaforte dello spirito è il solito problema sicura ma non è importante perché se noi gli mettiamo riduci guarigione e quel graciale lo fa lo fa con la sua prima skill non è un problema insomma è finita la partita semplicemente non potrà più curarsi non potrà più mettersi non potrà più fare la cosa più fastidiosa di questa run che è curarsi tutta la vita ogni volta anche se prende turno non è un problema in genere mi pare che si tolga i buff e si tolga i debuff e si metta un blocco debuff però in genere vedete che con un team un po' veloce e anche bravo ridurre il contatore non è in grado di prendere neanche un turno quindi anche se si togli i debuff che gli avete messo a pazienza quindi altri posti beh allora nella cripta dell'ordine mortali è uno dei migliori del gioco credo che possa essere il migliore della sua fazione per la cripta dopo Sify magari ha pochi sostituti l'unico potrebbe essere Ask probabilmente per il fatto che fa danno però anche stordisce tanto però in cripta grandioso in arena può essere utile anche se io non lo ritengo un campione uno specialista insomma un campione su cui dovreste concentrarvi per l'arena può essere un buon aiuto per i vostri clan però dovete avere pezzi veramente buoni che gli diano una difesa sensibilmente più alta di quella che gli ho dato io perché 1.800 1.900 quello che ha non basta del boss almeno 2.500 3.000 per confrontarsi con l'incubo e almeno 36.000 potrebbe essere sufficiente come vita ma almeno 40.000 per stare un po' più sereni e soprattutto un set rubavita per forza quindi è un buon avvelenatore però io dico c'è benshi gelata benshi gelata fa più danno di lui come avvelenatore prendete benshi gelata la vestite per il boss e siete felici e contenti non avete bisogno di nessun altro potete tranquillamente lasciar fare a netril altre cose detto questo io non avrei altro da aggiungere sarà un video un po' lunghetto tenendo in considerazione tutte le varie fasi io come al solito vi invito a lasciare un mi piace a scrivere un commento se avete gradito vi ringrazio ancora per il traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme detto questo noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti a tutti